...trinca, compiaciuta, col sorrisetto, eccetera... Puoi inquadrarmi la regina? La stanno inquadrando. Deve tacere un attimo. Non capisco cosa trova nel mio volto. Deve tacere un attimo, non è su... Così è di profilo, Ciciri, non si preoccupi. Non è questo l'argomento, insomma, voglio dire. Ognuno ha la faccia che ha. Mi fa finire un concetto per cortesia. Lei ne ha una. Ciri pure che la inquadrano meglio. Faccia meno l'arrogante col suo gileo color. Anche il solo palco ne ha un'altra. Sto dicendo una cosa. Parli di scienza, la prego, anche se non è la sua materia. Parli di scienza con me se vuole. Il dramma lo sa qual è, è che è la sua materia. Questa è la cosa più grave. Il dramma è che le debba spiegare io un paio di cose che ho studiato altro nella vita. Il punto è che mentre lei sorride, io penso al servizio che ha preceduto questo spazio in cui stiamo conversando amabilmente. E per tutta la fuffa che lei espande, diffonde... Non si permetta perché... Quel personale lì, taccia, taccia, stia zitto. Calma, 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 calma. Lì attenta, non si permetta. No, no, no. Lei non ha criteri per parlare. Lei è maleducata a esprimersi in questo modo. Calma, calma. Lei è selvaggia. Non facciamo... Guardi, le è stato detto... È maleducata e selvaggia. Le è stato detto... Non si permetta più. Adesso facciamo, dai, facciamo la battutina sul nome. No, non faccio la battutina. Parli seria. Dottor Trinca, la prego. Quello che lei dice... La prego. Quello che è interessante è il fatto che un uomo... Scusami, Corrado. È interessante il fatto che un uomo, fino a 5 minuti fa, gli abbia detto fuffa in tutte le salse e lui non abbia risposto. Una donna non si deve permettere. No, risposta è come. Vado a riascoltare. Ma andiamo avanti. Parliamo un attimo delle questioni serie. Abbiamo visto... Posso finire il concetto? Certo, abbiamo visto questa RSA. È quello... Io vorrei tornare a quel punto lì, selvaggia. Io vorrei finire il pensiero. Quel personale lì si abbevera a queste fonti, sente queste cose e non si vaccina. Non si vaccina e il vecchietto nella RSA muore. Quindi c'è un filo che lega il signor Trinca, lo chiamerò il dottor Trinca, e i vecchietti che muoiono nella RSA. Quindi io non riesco a chiamarlo un furbacchione. Mi deve dare la parola. Lo ritengo un criminale. Trinca, prego. Perché lei è colpevole. È colpevole. E chi nasconda le cune di fuffa è pericolosissima. Allora, selvaggia dice, lei è uno di quei cattivi maestri. Allora, rispondo. Rispondo. Leggo qui.